Marina Uzzani, Presidente di Coop Ortolani, si può spiegare la vostra attività qua? Una cooperativa di agricoltori di Ortolani nel territorio di Reggio Emilia che fa parte del triangolo tra Modena, Palma e Mancola. Siamo circa 40 soci, ci siamo messi assieme per commercializzare il nostro prodotto. Un prodotto che è basato sulla stagionalità dei nostri territori. Siamo in Emilia Romagna, diamo valore al discorso dell'anguria, dell'anguria reggiana, dei meloni, delle zucche, delle brassicace e tutto quanto. Una cooperativa che svolge una attività per 12 mesi, di conseguenza per lavorare 12 mesi abbiamo bisogno delle brassicace in inverno, facciamo conservazione della zucca, facciamo prodotti cotti come la zucca, la cipolla, la patata, la rapa e ci presentiamo anche con il discorso estivo legato al minestrone. Le minestrone che facciamo tutto l'anno, fiori di zucca che cerchiamo di fare per il peligro il più lungo possibile. Di conseguenza come soci abbiamo fatto una scelta di non vendere quello che si produce ma di produrre quello che si vende. Di conseguenza in dicembre facciamo una programmazione dei nostri prodotti e cerchiamo di portare casa, oltre all'elettività abbiamo anche cercato di dare una distintività al nostro prodotto, per un discorso di Hortorè che è facilmente riconoscibile nella grande distribuzione, perché i nostri prodotti si trovano nella grande distribuzione come Coop e Conal. Secondo lei cosa dovrebbero fare le cooperative per migliorare la sostenibilità ambientale? Noi siamo già impegnati per la sostenibilità ambientale, innanzitutto siamo un ricorporo, abbiamo bisogno di salvaguardare il nostro territorio e il nostro ambiente, perché sono comunque il nostro futuro. Come cooperativa la scelta di aderire a CPR, di non usare imballi a perdere, il discorso delle cassecche verdi che vengono chiuse, utilizzate dalla grande distribuzione per poi andare nei campi, essere utilizzate dagli agricoltori senza andare a perdere. Di conseguenza vengono riutilizzate più volte, lavate e disinfettate. Per quello che riguarda le angurie e le zucche lo facciamo nel PIS di plastica, anche questi li utilizzati più volte, tutti nella completa usura, e tutti quelli che sono gli imballi che utilizziamo nel cartone sono fatti con cartone certificato ambientalmente, di conseguenza abbiamo un rispetto totale per quello che riguarda l'ambiente.